Ed io i primi tempi, i primi giorni ho fatto vedere come si faceva l'inserimento. A Simonetta gli ho anche detto, guarda se devi fare il lavoro per non stare tra virgolette sola il pomeriggio, anche perché lì il mese di luglio e d'agosto di pomeriggio è il deserto in quella zona. Ho detto, preferibilmente magari queste tre ore che devi fare qui se le puoi fare la mattina. Senta, i datori di lavoro di Simonetta, quindi Volponi e Bizzocchi, sono mai venuti negli uffici di Via Poma quando c'era lei? Lo ricorda? Mi sembra una volta Bizzocchi, mi sembra una volta perché c'era un problema per quanto riguarda un problema sull'IVA. Lei in una dichiarazione dice nel dettaglio che in sua presenza Simonetta incontrò il signor Volponi presso gli uffici di Via Poma. Senta, secondo lei Volponi e Bizzocchi avevano conoscenza di dove erano questi uffici esattamente? Sì. Grazie. Grazie.